ben ritrovati amici ma soprattutto amiche dello spallino punto com appuntamento numero 18 con la diretta da divano dello spallino e ciao leo biscuola con la camicia quadri ciao a tutti come puntato dello spallino e che puntata e che puntata aspettiamo a dirlo perché come dire non non ci sono state occasioni nelle quali magari ci sono state le occasioni nelle quali siamo entrati un po in difficoltà con i collegamenti quindi non sappiamo come andrà a finire che poi tra l'altro leo e questa puntata l'abbiamo rincorsa per settimane settimane perché non era facile incastrare la serata giusta anche per il nostro ospite che è stato ampiamente annunciato in tanto ciao davide ciao marco i primi che che ci salutano e uno può dire no allora stipirla invitano francesco colombarini uno degli ospiti più prestigiosi che si potessero invitare in questa diretta e la simonetta si è simonetta colombarini simonetta giannini e si saranno preparati benissimo no dirà invece no non ci siamo preparati proprio per niente perché perché il nostro ospite stasera è uno di quelli imprevedibili che se tu ti prepari nella scaletta una domanda tanto non ci prendi mai non ci prendi mai perché è un maestro dell'imprevedibilità quando si tratta di avere i rapporti con i media quindi vediamo anche perché orla diciamolo che al di là della scaletta che ogni tanto mettiamo su su facebook così anche il giorno dopo esatto non è che noi abbiamo esattamente tutte queste cose preparate diciamo che andiamo un po' abbraccio siamo sappiamo più o meno quello che stiamo dicendo però comunque abbiamo abbraccio quindi stasera andremo ancora più abbraccio del solito ma sì sì e poi vediamo cosa succede insomma non siamo un programma televisivo e quindi ci riserviamo di andare un po' come viene quindi senza ulteriori indugi è il caso di introdurre i nostri due ospiti di stasera ovvero francesco colombarini e simonetta giannini adesso li aggiungo alla conversazione eccoli qua francesco buonasera è un piacere è un piacere enorme e francesco mi raccomando non uscire dall'inquadratura se no vediamo solo un pezzo del tuo volto e allora francesco questo è uno il tuo secondo giorno da imprenditore che non è più proprietario di una squadra di calcio come ci si sente come si sta ma non si sta mica male rimane funziona come deve funzionare per cui non vedo perché dovrei stare male ecco ora francesco se ti puoi spostare un po' più o a sinistra dopo abbiamo bisogno anche della simonetta nell'inquadratura sì perfetto c'è anche la simonetta così eccola la simonetta arriverà eccola qua c'è la simonetta non è andata troppo lontano perché abbiamo delle domande anche per te non credere di sfuggirci immaginavo bravi ragazzi fate due tre le facciamo a te due tre le facciamo a lei francesco allora francesco oggi tra l'altro per pura coincidenza è uscita un'intervista a tuo figlio simone su estense.com in cui insomma dice abbiamo lasciato la società in ottime mani e questa era una delle cose più importanti e tu come la pensi riguardo ma io penso anch'io che la spalzi è in mani sicuramente ottime quindi abbiamo potuto verificare questo e quindi ci fa piacere che tutto continui nel segno di un miglioramento che dovrebbe avvenire ecco per cui quest'anno sarà un anno di tradizione poi dopo si spera l'anno prossimo insomma di fare dei passi avanti con delle persone che sicuramente sono esperte anche di calcio e sanno come muoversi francesco vedo intanto che arrivano dei gran commenti per per te ti chiamano il boss dicono grande francesco grazie di tutto insomma c'è un sacco di di affetto anche nei nei tuoi confronti ma ti dispiace un po d'aver lasciato la spalla certo certo che dispiace però la situazione era diventata molto difficile per noi quindi dal punto di vista proprio finanziario ecco il sostenere continuamente le spalle aggiungi c'è il fatto anche che c'è stato il problema del del che non è stato una cosa da poco lo stadio mezzo chiuso insomma tutta una serie di problemi che non erano preventivati che si sono verificati ma francesco prima che arrivasse tacupina si sono presentati anche dei ciocca piatti alla vostra porta per provare a prendere la spalla e bar carità non uno solo ecco adesso tu le definiti gioca piatti però gente che sperava di di far tutto con poco ecco con niente però voi avete venduto comunque a un prezzo giusto no ha detto simone che non avete venduto a un prezzo incredibile però comunque un prezzo soddisfatti ecco abbiamo abbiamo accettato l'offerta che ci è stata fatta non speravamo neanche di più ecco francesco ma non ti non ti mancano un po le domande di sovrani dopo le partite questo sicuramente e poi ti dico francamente mi lasciano penseroso anche la notte tra l'altro francesco noi sappiamo benissimo che tu comunque continui a seguire la spalla sei allo stadio ogni volta in cui riesci e e quindi questo dimostra che la spalla non è mica stata come una passione di passaggio è qualcosa che che ti rimane dentro no ma io il calcio l'ho sempre seguito anche da ragazzino proprio perché sono sempre stati interista guarda poi dopo ho cambiato un po mi sono spostato un po verso il mille però la passione per il calcio è sempre stato non è che quando noi abbiamo cominciato a lavorare con la giacomense non è che fosse proprio era una passione anche quella sicuramente masi san giacomo non era ferrara però ci sono cominciati a fare i primi passi e un certo entusiasmo è nato anche lì ecco ma di questa stagione che idea ti sei fatto oltre al fatto che hai menzionato prima che è un anno di transizione quindi bisogna un po tribulare adesso io penso che questa è una stagione che non va neanche male del tutto io esamino un po quello che è il gioco i risultati non sono eccellenti però è un anno di prova bisogna arrivare alla conclusione di quest'anno cercando di salvarsi nulla di più quello è l'obiettivo della squadra ecco e c'è gente che comunque continua a ringraziarti dopo magari leggeremo qualche qualche commento i commenti continuano ad arrivare online insomma in tempo reale qualcuno ha scritto un profluvio di ringraziamenti e complimenti per francesco colombarini voglio dire francesco basterebbe questo per dire che comunque ne valsa la pena di questi otto anni rotti ma sono completamente cosa vuoi fanno anche piacere anche piacere però è chiaro che non sono sempre solo delle delle notizie positive ci sono anche quelli commenti negativi ma no io direi che il bilancio non è così ok allora i commenti negativi effettivamente ci sono stati perché nessuna proprietà calcistica riesce a rimanere a riparo dalle critiche però francesco c'è qualcosa che che in particolare magari ti ha ferito da questo punto di vista oppure te ne sei sempre un po' fregato dei commenti sì delle critiche soprattutto generale i commenti li vivi e poi ci devi passare sopra perché la vita non è quella lì insomma non possiamo stare attenti a tutti i commenti dall'esterno questo è normale mi ricordo ancora quando seguito una sconfitta due anni fa che poi mi accennai alla B partirono lì la ricordiamo ce la ricordiamo la frase la frase era non è obbligatorio stare in serie A sì non era obbligatorio e lì ti hanno ti hanno veramente massacrato ecco bravo vedi non la dimentico allora no scusa col seno di poi non la ridiresti come? col seno di poi non diresti di nuovo quella frase perché no? perché no? ma la serie A ha bisogno di bilanci particolari non si possono fare con quattro noccioline questo è il problema della serie A alla fine comunque i soldi sono rilevanti tra una delle tue frasi più famose Francesco c'è quella che hai detto a Sovrani quando ti chiedeva i giocatori un altro oltre a dire se voleva prendere Messi era anche malpagati quelli no? no o no? Sovrani ha la buona abitudine di chiedere continuamente ma che compriamo verso? perché c'è sempre bisogno di comprare è uno che sa solo fare le spese lui non sa fare i vitali non sa fare le entrate ecco lui ha le riuscite però però scusa Francesco non puoi non concordare su un fatto che per il terzo anno consecutivo vuole la punta perché là davanti si fa fatica a far gol la punta la punta ci vuole sempre quale punta perché dipende sempre dai costi voglio fare una divagazione Leo se me lo permetti coinvolgendo anche Simonetta se è lì nei paraggi perché non voglio certo escluderla da questa conversazione perché voglio allacciarmi a un tema di cui ha parlato Simone Colombari nell'intervista con Estense Punto sui suoi preferiti nella storia della SPAL no? perché mi immagino Simonetta e Francesco voi siete stati sempre a contatto diretto con la squadra in tutte le stagioni avete conosciuto centinaia di giocatori diversi allenatori e così quindi Simone ha messo nel gradino più alto del podio Manuel Lazzari come un po' il suo pupillo vuole capire i vostri pupilli però il mio è facile ok io ce l'ho chi è? qual è? ce ne sono guarda ne metterei se posso due a pari merito senza nulla togliere a tutti gli altri sono stati veramente tanti metterei sicuramente uno che ha il numero uno lo indossa ancora il numero uno e lo è veramente ed è Alex Meret grande e l'altro che secondo me ripeto ce ne sono tanti però l'altro secondo me è Sergio Flocari vabbè qui qui Simonetta cioè ci fai diventare il cuore grande come come un cespuglio di insalata perché veramente Sergio Flocari è un mito per tutti noi Sergio Flocari è una persona educata con ottimi niente era un piacere anche parlare con lui vi dispiace che la Spal non l'abbia vi dispiace che la Spal non l'abbia tenuto cioè non come giocatore ma magari come dirigente in un'altra veste ma ormai quando subentrano altre persone non è che questi qui abbiano la conoscenza di 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 Flocari come avevamo noi e quindi ma il tuo il tuo chi è Francesco il giocatore che ti è rimasto più nel cuore diciamo che mi è rimasto nel cuore me ne sono rimasti diversi facciamo qualche nome dai qualche nome uno due tre dai quello perché Lazari lo aveva di famiglia Lazari lo ricordiamo sempre con quel gol fatto Sant'Arcancolo di Romagna che non sapeva neanche come esultare non sapeva neanche come esultare quella volta perché non segnava mai però scusate il gol di Sergio Flocari che ha saltato Gigio Donnarumma quello è stato anche quello quello è stato bello quello è arrivato in un quello è arrivato in un brutto momento quello è arrivato in un brutto momento però fu un gol leggendario allora io vorrei chiedere a Francesco no scusa però andiamo avanti con la lista di Francesco perché voglio capire perché era sul primo esatto era sul primo il buon Manuel Lazzari lo dico io un bellissimo nome vai Borriello ok no Borriello 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 un bel ragazzo soprattutto comunque come dire ha guadagnato bene da quella stagione che è stato qua non è costato niente Francesco Borriello insomma è stato l'acquisto più interessante più indovinato vabbè diciamo che tra tanti acquisti insomma uno si può anche sbagliare no? sì 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 è per questo è per questo che non bisogna seguire quello che dice il nostro sovrani sovrani bisogna capire se sovrani era d'accordo o no so prendere Borriello c'è per comprare questo è importante ma ascolta ma la SPAL secondo te ha comprato bene negli ultimi anni al di là degli errori che sapete ha fatto dei buoni acquisti e ne ha fatto di tre di scarsi ecco come se però scusa Francesco io questa cosa te la devo chiedere a distanza di tanti anni allora una persona non posso nominarla purtroppo a un certo punto mi raccontò come andò la riunione nella quale sceglieste mister semplici quell'anno che arrivò perché avevate mandato via brevi e venne fatta questa riunione alla quale mi è stato detto hai partecipato anche tu e il tuo consiglio fu prendiamo quello che costa di meno e quello che costava meno era semplice era semplice è vera questa cosa che il criterio era prendiamo quello che costa meno ma no semplici conoscevamo un po' l'ambiente perché era un ambiente dove come devo dire in Toscana noi ci andavamo fornivamo molto laminato e forniamo ancora molto laminato nella zona dove semplici operava e quindi per noi c'era un qualche un richiamo un qualche tradunione proprio perché semplici faceva parte di questo gruppo e quindi abbiamo scelto lì ma non è che fosse quello che costasse meno non lo so non ricordo bene perché poi è passato qualche anno esatto ma scusa qui coinvolgo anche Simonetta perché sempre partendo da quello che ha detto Simone dice Simone non avremmo mai dovuto iniziare quella stagione con semplici avevate avuto anche voi la stessa sensazione cioè che qualcosa non fosse più a posto ma io no io lo dico francamente io non ero di quella parere io non l'avrei neanche mandato io per cui era la prossima domanda questa Francesco che ti avrei fatto è stato un bel errore io non l'avrei allontanato anche perché cambiarne uno cambiarne uno per prenderne due non vale a meno non lo so è stata fatta quella scelta il mio peso non era determinante quindi mi viene strano pensare mi viene strano pensare che il tuo peso non fosse determinante visto che eri il padrone della baracca no io avevo una quota minima ah ok avete capito male voi ok quindi io ho una quota molto più alta di età ma il tuo peso ce l'avevi dai insomma nelle scelte in qualche modo al di là delle quote no 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 il peso il peso nelle società per me era quello di chi aveva la proprietà e chi aveva la proprietà perché la maggioranza ce l'aveva Simone quindi non c'è da discutere poi vabbè poi dopo poi dopo ci si adegua anche alle scelte degli altri quindi però non eravamo mai in contrasto completo Simonetta lo valutavamo e poi dopo ci facevano le scelte Simonetta tu che l'idea di per cambiarlo come un altro signore l'anno di viaggio hanno fatto tutti i tecnici che promettevano mare e monti e poi dopo i monti si diventavano dei laghi ecco mi interessa sapere però l'opinione di Simonetta perché nelle volte in cui abbiamo avuto occasione di chiacchierare cioè lei come dire aveva sempre questa tendenza a guardare molto il lato umano dei giocatori delle persone che erano coinvolte in organizzazioni spal semplice ovviamente aveva un peso specifico notevole e quindi vorrei chiedere a lei un'opinione su quelle più che poi alla fine Allora Leonardo direi che indubbiamente rimane nella storia della spalla è l'allenatore che l'ha riportata in Serie A dopo tantissimi anni e credo che per tutti i ferraresi di una certa età non età avanzata ma diciamo dai che adesso e che anche allora avevano dai 15 anni in poi se lo ricorderanno per sempre e lo ricorderanno come il condottiero di quella squadra magica che dalla Serie B è poi arrivata in Serie A quella è la SPAL che forse tutti ricorderanno come una squadra straordinaria con lui che comunque ha dato la sua impronta e è riuscito a organizzare un gruppo che probabilmente dopo non ha più replicato se non forse alla fine del primo anno di Serie A però quella era proprio una squadra particolare a proposta di particolare Leo vogliamo passare prima di passare a quell'argomento lì che tanto dobbiamo arrivarci perché è per forti siamo obbligati esatto volevo fare una domanda a Francesco e anche a Simonetta insieme insomma perché so che io ho un ricordo vivido in una nostra conversazione in Mixed Zone quando ancora si poteva non c'era tutto questo discorso del covid Francesco un commento sullo stadio avete investito tanti soldi mi fai una domanda molto difficile lo so perché mi ricordo che avevo parlato mi metti in buche io non posso mi metti in buche questa domanda perché tu vuoi sapere il commento sullo stadio perché è stato chiuso no no in realtà anche quello in realtà ma soprattutto noi parlavamo del fatto che comunque avete fatto un investimento importante sullo stadio per noi la chiusura dello stadio è stato un problema grandissimo quindi poi come si svilupperà sta facendo e come finirà non lo sappiamo neanche noi ancora però ancora prima io dicevo sai dell'investimento che avete fatto eh ancora prima proprio dell'investimento quando avete deciso di investire così tanti soldi sullo stadio mi ricordo che tu eri abbastanza preoccupato ma naturale ma naturale perché si faceva un investimento che per alcuni aspetti era da fare e per altri aspetti era superfluo questo era il problema poi dopo si decise di farlo e via e si è andato adesso chi lo utilizzerà lo utilizzerà insomma comunque per noi è stato un costo non indifferente che è contribuito a penalizzare la spalla è vero però posso dire che dal mio punto di vista anche da quello di tutti i tifosi che ci stanno ascoltando credo avete lasciato in regalo alla città una perla perché comunque cioè se non ci fossero sono stati voi io credo che la gradinata non sarebbe mai stata coperta non mi dire che è un opera di beneficenza io vi ringrazio così è rimasto alla spalla è rimasto alla spalla sicuramente non so quanto lo spallino gli spallini lo apprezzeranno questo però effettivamente è stato fatto un passo enorme insomma credo che tutti siano perché c'è un discorso anche se coprirlo se non coprirlo tutti problematiche Leo in Inghilterra soprattutto i settori i singoli settori vengono intitolati delle persone per esempio a Manchester oltre Afford c'è l'Alex Ferguson stand che è una tribuna intera dedicata ad Alex Ferguson quindi io non vedo perché non fare la gradinata Francesco Colombarini visto che quella roba lì l'ha messa in lui lascia stare che non ho bisogno di questo grazie a Dio allora Francesco forse la gradinata Francesco Colombarini non la voglio fare no 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 ma vuoi non fare no se vuoi fare qualche bungalow lì giù ecco facciamo quello lì ma vuoi non fare la tribuna la tribuna Walter Mattioli ecco quello è che potrebbe fare ecco dici che sarebbe contento che lui ci avrebbe tenuto sicuro ma su questo argomento stanno arrivando tante domande in diretta Francesco io non posso fare a meno di fartela perché anche lì Simone ha detto che i rapporti con Walter Mattioli non ci sono più no a me no no Walter Mattioli disse quando 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 abbiamo fatto la riunione prima dell'inizio campionato che aveva dei sassolini nelle scarpe e poi dopo io non ho mai saputo che tipi di sassolini aveva se erano chiodi o erano sassolini non l'ho mai saputo però scusa c'era un'amicizia c'era un'amicizia lunga 30 anni che adesso c'è ancora o non c'è più no io non abbiamo neanche più in compiuto io non l'ho mai più visto e sì io vivo a Masi e lui pure però non abbiamo motivo di incontrarci ecco sarebbe da fare un trionfino per ritornare ad andare d'accordo ma non gioca a me che trionfo Mattioli non gioca a trionfo Mattioli che sa che io no io sì che ci gioco quello lo sapevo infatti hai sfidato Malaguti un sacco di volte Malaguti cosa ha fatto? tu l'hai sfidato no l'hai sfidato a trionfo ma sì sì se vuole giocare però venga Masi perché io il mio punto di gioco è Masi allora diciamo a Malaguti di recarsi a Masi se vuole sfidare Francesco Bambarini allora se non gioca a trionfo dice Sandro toglietegli la cittadinanza no no ma ci gioca siamo a posto su questo io invece Francesco vorrei parlare un po' di attualità adesso abbiamo parlato di Mattioli avete detto che i rapporti insomma non sono quelli lì hai studiato inglese per parlare con Tacopina o lo sapevi già? lo sapevo già non ho capito hai studiato inglese per parlare con Tacopina no no io non ho studiato inglese io quel po' di inglese che so lo so perché l'ho dovuto l'ho dovuto per forza praticare viaggiando fuori andando in America avevamo un agente tedesco che parlava non parlava per niente italiano e quindi quando andavo in America l'unica lingua che potevamo avere in comune tra me lui e la clientela era l'inglese e lì ho cominciato a parlare un po' l'inglese anche perché Leo guarda che Vetroresina ha uno stabilimento se non sbaglio in North Carolina quindi insomma c'è un punto di connessione con gli Stati Uniti proprio lì volevo arrivare esatto ma vi siete trovati lì con Tacopina siamo anche molto felici di quell'impianto là è un impianto che sta lavorando moltissimo e sta andando molto bene è già da dieci anni che in funzione l'abbiamo raddoppiato quest'anno vuol dire che le cose non vanno così male ma ti piace Tacopina vi piace anche a te Simonetta avete avuto modo di conoscere mi piace Tacopina Tacopina piace alle donne non le ragazze allora chiediamo alla Simonetta infatti ho chiesto anche alla Simonetta avete visto un ragazzino a viaggio Tacopina ha una fidanzata molto giovane esatto e poi è entusiasta tu la devi sentire parlare del suo uomo ci credo e non abbiamo mai avuto gelosi gelosissimi noi non abbiamo mai avuto occasione di incontrare la fidanzata di Tacopina perché ci risulta essere una ragazza molto riservata e quindi non c'è mai stato è una ragazza piacevolissima veramente è molto aperta non ha problemi però ecco torniamo torniamo un attimo da Simonetta ovviamente non parlavamo a livello estetico ma che impressione vi ha trasmesso Giotta Coppina come personaggio perché diciamo il carisma non gli manca quello di sicuro e soprattutto vogliamo sapere se gli avete fatto assaggiare i capellacci e la salamina vabbè quello quello solo ah no non solo quello Francesco gli ha regalato anche il suo olio naturalmente fantastico l'ha apprezzato moltissimo beh è una persona comunque che apprezza molto tutto ciò che è italiano anche perché le sue origini sono quelle ma secondo me direi che ha sposato in pieno il famoso progetto Spallu è una persona molto entusiasta una persona che pensa positiva molto very friendly possiamo dire ah beh decisamente molto amichevole molto vive la partita è molto bello vederlo alla partita perché la vive proprio con passione quindi direi che un'ottima persona persona molto positiva scusa Simonetta ma saltando di palo in frasca tu condividi la tua vita con Francesco da quando hanno firmato quel preliminare a luglio lo vedi più sereno direi non che non fosse sereno prima però però daccelo di più beh diciamo che comunque la passione è rimasta con qualche problema in meno due giusto due tre proprio c'è una cosa Simonetta che che è stata un po' rimproverata la proprietà della Spall diciamo dall'ultima stagione di A fino all'epilogo cioè forse di essere stata un po' troppo in silenzio cioè anche nei momenti di difficoltà magari di essere rimasta un po' chiusa invece magari poteva condividere di dare un'ulteriore spiegazione di quella frase della serie B io che lo conosco bene so che era stata detta con questa intenzione come affronta sempre la vita d'accordo se sarà la serie B faremo la serie B cioè ecco questo è sempre stato lo spirito si fa quello che si può fare si riesce a fare e si coglie il lato positivo di quello che c'è Sì sì ma Simonetta questo è chiaro nel senso che in tutte le occasioni in cui mi capitava di discutere di questo aspetto soprattutto quando venia citata quella frase di Francesco io dicevo guardate che Francesco uno ha questo modo di pensare cioè è uno che è molto realista ecco da questo punto di vista ma poi dicevo e poi se quella cosa l'ha detta l'ha detta perché lì c'era Sovrani e voleva farlo arrabbiare secondo me poi il tema era quello lì anche sì sì Sovrani mi faceva arrabbiare mi faceva anche sorridere non è che mi abbia sempre fatto arrabbiare certo che si sapeva già le più domande erano sempre quelle quindi posso aggiungere una cosa dai vorrei spezzare una lancia a favore di Alessandro Sovrani no ma lo adoriamo non è che vogliamo parlare di lui no durante il periodo il pieno periodo della pandemia quindi parliamo di marzo aprile maggio 2020 lui Alessandro Sovrani abitava in quell'epoca molto vicino a noi quindi tutte le mattine passava a salutare e insomma è una persona diversa rispetto al cronista sportivo al giornalista sportivo ecco quindi anche anche molti lati positivi ma no adesso noi scherziamo ma perché ci divertiva molto una delle cose che ci divertiva di più era andare giù in zona mista e vedere Francesco che si preparava alle domande di Sandro perché non vedeva l'ora di prenderlo un po' in giro di rispondere in maniera un po' così spiazzante e per noi era fantastico vedere questo questo tipo di dinamica tra di loro perché era molto divertente quanto ci mancano le interviste di Francesco ci sono sempre delle risate in Mixed Zone è tutto troppo serio Francesco l'ultima domanda per me da parte mia come lo vedi Vagnati al Torino come? Vagnati al Torino Vagnati sta benissimo Torino non ha mica problemi anzi per me ha fatto un salto di qualità notevole poi dopo quelle che sarà la sua vicenda però sicuramente ha migliorato le sue condizioni ma vi sentite ancora? dove? Torino? dico parlate ancora intanto avete ancora no 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 non lo sento mica più allora Davide se stai guardando la diretta chiama Francesco una volta salutalo ma sento malissimo ah ok non c'è audio no purtroppo abbiamo una buona connessione per quel che riguarda perché fino a sabato siamo senza wifi quindi un'ottima connessione immagine un po' meno un po' meno l'audio peccato anche senza wifi siamo senza wifi può capitare può capitare quindi no dicevo prima Francesco stavo facendo un appello a Vagnati che ogni tanto guarda la nostra diretta che ti faccia un colpo di telefono anche per salutarti non so che rapporti avete voi con Vagnati buoni io l'ho sentito l'ho sentito due volte penso negli ultimi due anni quindi ah poco poco molto poco sì Mattioli zero però non mi ha mai telefonato Mattioli adesso sarebbe il momento di chiamarlo non credo invece di chiamare me poterete chiamare Mattioli che avrebbe cominciato almeno avrebbe detto delle cose nuove noi ci divertiamo un po' di più con te però Francesco dai intanto Sandro Pasetti commenta la punta e il wifi ecco la punta e il wifi ci vediamo ragazzi buon lavoro grazie un grande abbraccio a Francesco a Giannini ciao ciao eh beh Leo che dire sono parzialmente commosso da questa rimpatriata chiamiamola così rimpatriata con con patron Francesco Malbarini mi scuso con tutti quelli che hanno mandato domande non siamo riusciti a a raccontentare però veramente sono arrivati sono arrivati tantissimi commenti intanto Rich ci dice con Mattioli viene giù Facebook ho idea anch'io però lanciamo un appello per chiunque stia guardando magari sia in contatto con Walter Mattioli se Mattioli vuole partecipare a diretta allo spallino noi siamo super felici di di ospitarlo fermo restando che non non credo dire niente di di nuovo non è che gli fossimo simpaticissimi ecco no infatti infatti Federico Matteucci si è invitato i Mattioli che li fanno chiudere a tempo zero il rischio di una litigata e altro allora devo dire una cosa devo dire una cosa siamo molto fortunati non voglio fare il ruffiano però siamo molto fortunati perché adesso abbiamo un editore che si occupa dello spallino e quindi per fortuna abbiamo qualche tutela in più rispetto a prima prima eravamo veramente imbraghi di tela sempre e comunque invece adesso siamo un po' più tranquilli e quindi bene così due parole su Francesco intanto sì perché comunque al di là del fatto come abbiamo detto prima ci sono più di 200 persone che non hanno sentito quello che abbiamo detto fare questa diretta con Francesco è stato complicato perché comunque le tempistiche i tentativi di ingaggio sono stati notevoli infatti era comunque lui lo aspetta un secondo perché poi Francesco cioè lui continua ad andare in vetroresina tutte le mattine cioè vuol dire non fa la vita il pensionato che si alza e dice vabbè oggi non voglio fare no alla ora quindi insomma non è così facile esatto però comunque ha fatto immensamente piacere un po' perché ha ricordato i tempi i tempi della Serie A che sono un po' i tempi d'oro della sua spalla ma anche perché comunque è una persona con la quale noi sia lui che Simonetta a dire la verità che è stata molto disponibile ringraziamo ancora per l'aiuto sul collegamento sono due persone ho letto prima un commento equilibrate a me piaceva questo di Francesco Lombrini anche quando magari c'era una partita gobba oppure c'era una situazione un po' un po' esplosiva lui riusciva sempre a dire quella battuta oppure dire quel qualcosa che smorzassi Tony e riportava tutti un po' sul pianeta Terra invece altre persone nel bene nel male comunque diciamo che incendiavano la situazione e intanto vi dico il messaggio di Simonetta che aveva appena scritto e ci ringrazio che è stato piacevolissimo e quindi insomma di nuovo anche da parte sua e da parte di Francesco ecco no no beh ma infatti è stata una bella mezz'ora veramente e Tommaso dice dopo la bella favola alla spalla è triste sapere che tra Francesco e Walter non siano più rapporti e amicizie sì è vero questo questo è un po' diciamo una macchia su questa bella storia perché comunque stiamo parlando di persone che hanno collaborato hanno condiviso 30 anni di calcio perché comunque i Colombalini e Mattioli si sono conosciuti per via della Giacomense insomma e quindi è davvero un peccato che si sia rotto qualcosa e anche lì sarebbe sarebbe bello un giorno capire da Walter Mattioli cosa ha portato a tutto questo insomma perché non credo sia così immediato rompere un rapporto d'amicizia di questo tipo però vediamo vediamo magari se riusciamo tra qualche diretta oppure se ancora la ferita è troppo è troppo recente vedremo di fare un tentativo per invitare Mattioli e fare due chiacchiere anche con lui insomma che comunque il bene e il male ha comunque fatto iscritto la storia della spalla insieme a tutti gli altri sì decisamente Matti e Penebianco dicevi non ho capito perché hanno rotto l'amicizia beh il perché non è mai stato esplicitato da nessuno però è facile intuirlo il passaggio di proprietà tra i Colombalini e Giotta Copina ha fatto sì che Mattioli venisse completamente stromesso dai piani della nuova SPAL e questo evidentemente Mattioli non l'ha condiviso insomma evidentemente mi viene da pensare ci sono state delle differenze di vedute che hanno portato a questa situazione purtroppo la materia era molto delicata perché da un lato insomma Giotta Copina aveva tutte le ragioni per fare delle scelte diverse dall'altra magari Mattioli si aspettava di poter rientrare nei piani in qualche modo insomma o essere trattato anche con maggior riguardo forse e invece questo non è accaduto guarda garantisco che su questo tema c'è molta riservatezza c'è molta secondo me anche giustamente nel senso che né i colombari né i mattioli hanno l'interesse a mettere in piazza i loro affari e chi ha vissuto questa vicenda dall'interno e non sono molte persone comunque non ha interesse né voglia di di stare a delineare dei retroscena delle cose cioè le cose purtroppo sono andate così c'è qualcuno ci doveva rimettere in questa circostanza e purtroppo è quello che ci ha rimesso probabilmente di più è Walter Mattioli più che altro in termini diciamo di orgoglio di di voglia anche magari di rendersi utile e di sentirsi dire no guarda tu qua non servi più diciamo che sì la situazione comunque essendo estremamente delicata e ha coinvolto come dire un rapporto oltre che lavorativo anche personale è giusto che se c'è qualcuno che la deve dire non siamo noi nel caso ma sono i diretti interessati uno l'abbiamo avuto questa sera se abbiamo anche l'altro Mattioli tra un po' di dirette magari gli possiamo chiedere la sua qualora dovesse accettare l'invito ecco anche perché adesso fino adesso Mattioli anche i colleghi che hanno comunque provato a ingaggiarlo in questo momento non sembra che non abbia così ma ha le sue ragioni insomma noi le rispettiamo comunque argomento chiuso parliamo di Pat Carroll che è la vera novità della settimana ossia che aspetta che ho il titolo giusto aspetta aspetta questo è per mettere un fenicottero in in sovrimpressione Pat Carroll ciao 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 effettivamente sì esce Pat e ne entrano due nuovi diciamo uno so di teco pinha entrano in così l'amministrazione perché in termini non lo conosciamo possiamo dire che non lo conosciamo e non è un argomento così perlomeno noi chiaro ecco quindi però comunque ne esce uno esatto ne esce uno ne entrano due quindi staremo a vedere c'è stato il famoso closing così siamo tutti più tranquilli visto che è un mese che si chiedeva se c'era questo benedetto closing ma è andato tutto bene e Orla la Spal ha pareggiato con il Pordenone perché abbiamo parlato un po' di tutto ma dovremmo parlare anche di un po' di un po' di palla che notano tra l'altro scusa tu mi stai portando qua perché vogliamo ricordare che tu hai fatto punto con il nostro giochino stupido sì esatto volevo dire in apertura ma mi sono dimenticato e quindi c'erano cose più importanti in apertura segno sei a due lasciamo la Poli al palo con uno eh sì eh sì tra l'altro la Poli non ci ha mica detto cosa cosa mettere per le prossime due adesso dobbiamo chiederle dobbiamo chiederle sì allora di questo di questo pareggio col Pordenone come come ne è uscito dalla spalla ah tu eri a Lignano quindi probabilmente lo hai io lo so perché ero a Lignano ma è il gran freddo oltre che essere a Lignano sì c'era a Lignano non siete andati a fare un giro sui scivoli ad acqua no esatto no diciamo che io vabbè chiaramente il punteggio non può essere pienamente soddisfacente però se quello che vogliamo vedere da questa squadra che è quello di inizio anno è la voglia di giocare di provarci secondo me non si può dire che non ci abbia provato fino alla fine poi insomma le occasioni le ha avute qualche Tiam ha parato un rigore che sarebbe stata una beffa però secondo me la spalcia ha provato poi che non ci sia riuscita è una cosa che può che può starci insomma è chiaro che con questo organico qui questo è quello che si è riuscito a fare se poi Vido l'ultimo l'ultima palla giocata invece che allungarsela un po' troppo riesce a controllarla magari calza e fa gol e si è tutti contenti però domani domani alle 11 c'è la presentazione di Vido è la prima cosa che voglio chiedere ma ci ripensi ancora a quel controllo ciccato alla fine che potrei diventare l'eroe subito controllo ciccato però ha fatto l'assist per il gol e non so da casa che percezione si sia avuta però da lì è fatto veramente un gesto quasi a memoria anche se in realtà era arrivato da tre giorni comunque arrivano arrivano dei commenti uno tipo Mattioli non parla più nemmeno con Pat Carroll e poi un altro Pat Carroll che almeno restituisce l'epolo della spalla se ne usa per fare della palestra visto che anche lui come Joe ama ama la palestra Vido non sposta gli equilibri dice Matti è pieno e bianco beh madonna ma l'abbiamo visto 90 minuti aspettiamo un secondo prima di darsi giudizio dai tra le altre cose scusa Leo faccio una bravissima divagazione oggi pomeriggio avevo annunciato anzi stomattina avevamo annunciato sullo spallino che sarebbe arrivata la newsletter oggi arriverà praticamente dopo questa diretta perché contiene un'esclusiva pazzesca sulla quale ho lavorato dalle 6 di oggi pomeriggio a poco fa devo solo completarla e poi mandare la newsletter credo verrà molto apprezzata chiuso a parentesi per quanto per quanto riguarda ecco lei ha chiesto quanto costa l'abbonamento giornaliero e vedi diretta sugli scivoli lo scivolino punto com vabbè non ho chiesto perché era dalla parte opposta e quindi non sei riuscito però mi sembrava abbastanza chiusa la situazione scusa ma voglio portarti su un discorso intanto devo togliere questo perché non stiamo più parlando di Pat Carroll ha giocato titolare Esposito al di là del fatto che ha batti beccato con un tifoso presumibilmente ubriaco poi non so i racconti lì sono un po' discordanti ma ti è piaciuto Esposito la sua prestazione ti ha convinto è davvero un'alternativa di pari livello a Viviani ma secondo me in questo momento no nel senso che ha fatto la sua partita non ha fatto malaccio ha recuperato un sacco di palloni e lui è uno che ci mette sempre non è uno che si risparmia però se dovessimo fare in questo momento il confronto tra il Viviani diciamo del girone d'andata perché in ultima partita anche lui stiamo un po' tirando il fiato ma come tutti gli altri e Esposito secondo me stiamo parlando di due cose diverse insomma anche in termini di contributi peccato che Viviani non ci fosse stato insieme a Mora gli altri centrocampisti perché comunque deriva perché secondo me qualcosina all'inmezzo si è sentito che mancava poi va anche detto che Venturato in mezzo al campo ha schierato due o nove acquisti quindi appena arrivati bisogna anche dare tempo a Venturato di come dire amalgamare un po' il gruppo però mi chiedo ma se Clotet avesse fatto questi tre pareggi consecutivi di cui in realtà due da baciarsi i gubini un terzo meno che cosa si sarebbe detto di Clotet che non specula contro una squadra così vabbè ma non credo sia un paragone appropriato insomma perché stiamo parlando di approcci diversi organici anche diversi perché sono arrivati tanti giocatori nuovi insomma non lo so però secondo me secondo me se Clotet fosse rimasto e avesse pareggiato secondo me avrebbe tirato molte 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 più critiche di quelle che non ha tirato Venturato quello è certo quello sì perché adesso solo perché è nuovo ecco lo ha avuto a Bologna lo ha avuto a Venezia c'è grande stima lui lo considera un giocatore potenzialmente importante però non è più un giocatore di alto livello insomma lo è stato ma adesso non lo è più e quindi davanti a diversi altri elementi che possono dare più garanzie di lui e quindi rimane in gruppo è una presenza importante nello spogliatoio questo mi è stato confermato da più parti però ecco il suo ruolo si ferma lì insomma un po' uomo immagine chiamiamolo così e Stefano ci chiede Viviani assente anche sabato questa è un'ottima domanda allora Viviani credo di sì da informazioni che abbiamo avuto modo di raccogliere oggi quasi certamente a meno di recuperi Lampo teniamo conto anche del fatto che se dovesse stare meglio comunque Venturato non avrebbe grande interesse a rischiarlo perché dopo comunque si comincia a giocare veramente ogni tre giorni e avere Viviani in buone condizioni è molto importante da Riva punto interrogativo cioè potrebbe recuperare in extremis come essere risparmiato e poi l'unico che ha la certezza di rientrare tra gli assenti credo sia Mora perché da quello che ho capito stava già piuttosto bene la scorsa settimana ma si è voluto comunque dargli un turno di extra per tornare nelle condizioni giuste quindi direi che è quello che ha più probabilità di tornare nella nella rotazione fermo restando che adesso ho giocato Pinato giocato Zanellato non so quanto posto ci possa essere per Mora però insomma vedremo è un'altra che a me è piaciuto tra l'altro ha fatto un'ottima partita soprattutto all'inizio Pinato non so forse era la sua ex squadra non so bene mi è sembrato un po' troppo contratto poi era anche la prima partita quindi ha anche poco senso da parte nostra dare dei giudizi ma sì la prima partita però aspettiamo tre partite per capire dai esatto esatto dicono Rossi sempre più pesantito in effetti sembra un po' diciamo un po' tozzo non vorrei che avesse pagato un po' le feste Viviani vi ha sbloccato dice Max no non mi risulta dovrei controllare ma adesso controllo in tempo reale ma non non credo non credo Ricky ci chiede di Peda Peda da quello che ho capito dovrebbe essere non lontanissimo da un rientro forse quasi quasi una settimana dieci giorni al massimo insomma tenete conto che è stato fuori in molto tempo e quindi comunque bisogna andarci molto cauti e stare moderatamente tranquilli e poi ci dice ma Caprodossi non può proprio giocare al posto di Vicar e fare coppia con Meccariello ah beh sì può farlo bisogna tenere conto di un aspetto che Meccariello scusate Caprodossi da quello che ho capito è uno di quelli che ha sofferto di più il ricondizionamento post covid cioè è uno di quelli che si è ritrovato più in affanno insieme a Colombo e quindi l'abbiamo visto anche nella partita col Benevento se ricorderete insomma che non sembra neanche lui insomma era poco reattivo un po' lento e quindi lì si sta facendo un lavoro per cercare di recuperarlo al 100% è chiaro che quando hai tre centrali così come Vicari Meccariello e Caprodossi se la giocano loro tre quindi Venturato se vedrà che Caprodossi e Meccariello insieme gli danno più garanzie farà giocare loro non ho grossi dubbi su questo eh sì eh sì direi che gli argomenti sulla partita di Pordenone orla li abbiamo un po' visti adesso esatto per guardare un po' avanti negli ultimi minuti che ci mancano prima di salutare adesso la Spal sì esatto da Monza in poi direi che la Spal ha un bel tour de force da fare l'ha detto anche Gazzoli l'ha ripetuto diverse volte come come la vedi questo periodo come questo periodo qua come lo vedo lo vedo un periodo nel quale bisogna essere molto bravi a gestire le energie tutto lì il tema nel senso che lì dovrà essere molto abile e venturato a fare delle rotazioni e non tirare il collo ai giocatori perché la solvezza è tutt'altro che acquisita e quindi bisognerà stare molto accorti fermo restando che adesso si va a Monza e Monza è un punto interrogativo perché è una squadra che ha dei nomi di altissimo profilo ma a volte perde partite assurde e poi c'è la regina in casa e quella è una partita adesso non voglio usare crociale una partita da non sbagliare però è una partita in cui comunque devi provare a portare a casa assolutamente qualcosa perché ovviamente è una rivale diretta in grossa difficoltà e quindi bisogna quantomeno provare a trascinarli ulteriormente verso il basso e trovare una vittoria che oh Leo noi siamo qua che parliamo ridiamo e scherziamo ma la Spal da quanto non vince da cos'era fine novembre che ha vinto a Cosenza no a Crotone sì bisogna cominciare a muovere la sta classificando l'ultima vittoria Crotone Spal 4 dicembre insomma in casa non si vince addirittura dal 21 settembre ci siamo persino dimenticati che effetto fa vincere una partita in casa era Spal Vicenza 3 a 2 quindi insomma sì bisogna ricominciare a fare i tre punti non ci sono dubbi su questo salutiamo anche Andrea Poltronieri che ci ha salutato in diretta poi Orla non so se avevi altri elementi da da vedere altrimenti sto messaggiando con la Polli che deve sparare i suoi pronostici ecco mentre tu messaggi con la Polli io sto messaggiando con con Simonetta che probabilmente ci sta ancora guardando mi ha dato anche un commento ah ok non avevo visto dice sarebbe bello a fine stagione fare una carellata di questi straordinari nove anni quindi dobbiamo ricordarci e fare l'appunto che possiamo rifare un nuovo appuntamento a fine stagione celebrativo anche se ogni tanto noi lo facciamo io ti dirò di più è da agosto all'incirca che penso a un progetto che è un progetto un po' complesso di diciamo riassunto della spalla dei colombarini cioè adesso non voglio sbilanciarmi e dire che ci sia in mente di fare un libro ma qualcosa del genere comunque provare a inquadrare otto anni di storia in retrospettiva nelle parole dei protagonisti perché è una storia gigante nel senso che comunque per apprezzare realmente ciò che è stato il periodo 2013-2021 avremo bisogno ancora di tempo come quando siamo andati bagnati siamo andati semplici abbiamo sempre detto al momento non riusciamo a dare un giudizio storico dobbiamo aspettare 5, 6, 7, 8, 10 anni e poi guardare le cose in retrospettiva per inquadrarle nella maniera giusta anche come dire raffreddandoci rispetto a queste figure che ci sono piaciute non ci sono piaciute è una roba ultra soggettiva però comunque si portano dietro un'eredità quindi sì sarebbe bello provare a ripercorrere per bene tutto quel periodo eccezionale cioè allora giusto in questo momento Simonetta vince ci sono partite straordinarie che bisogna ricordare è vero partite veramente storiche quasi da sì ma non solo quelle però perché ci sarebbe anche da raccontare tutto quello che non è uscito col pubblico nel senso che chissà quanti momenti memorabili sono stati vissuti dentro le mure di via Copparo o nei ritiri o queste cose qua che possono anche aiutarci ad avere come dire una prospettiva più chiara su certe prestazioni su certi comportamenti ci sarebbe veramente tanto da dire bisognerà provare lo facciamo dai esatto lo mettiamo in piedi bisognerà provare sono arrivati i pronostici della polli che dice che con il monza sarà protagonista finotto e con la regina sarà protagonista mancoso ok io mi gioco Vido di nuovo perché l'hai visto bene perché l'ho visto bene esatto e poi mi gioco finotto sapendo che alla faccia della polli alla faccia della polli va bene mi avete messo in difficoltà perché avete preso allora guarda io mi giocherò Colombo contro la regina perché prima o poi deve tornare a far gol e a convincerci e adesso ti stupirò a Monza dico debattiamo che non lo mettiamo mai non lo mettiamo mai fermo l'esterno inizio anno lo si metteva inizio anno lo si metteva poi non gli abbiamo portato così tanta fortuna effettivamente quindi hai una grossissima responsabilità infatti vedi Mattia Panebianco dice un elogio ti amo gioco lui abbiamo avuto la stessa idea perché Demba effettivamente se andiamo a guardare le pagelle di queste tre partite che ha fatto nel 2022 7 col Benevento 7 col Pordenone 7 col Pisa e 7 e mezzo col Pordenone meglio di così ci fa un po' fatica anche perché se un portiere prende di più vuol dire che hanno bombardato la porta e ha fatto abbastanza schifo nel suo complesso invece in questo caso è stato bravo e si è fatto trovare pronto quindi bravo Demba complimenti è vero allora a chi ci chiede la newsletter come si fa come non si fa se andate sulla pagina Facebook dello Spallino c'è un post che risale a stamattina alle 11.30 dovete scorrere in basso di 2 e trovate un link che vi permette di iscrivervi alla newsletter ricordo che la newsletter arriva una volta al mese via mail la scrivo principalmente io ma si tratta solo di poi di prendere un po' del materiale dello Spallino e di rielaborarlo in alcune vesti è gratis quindi iscrivetevi non è detto che lo sarà per sempre chi lo sa però finché è gratis iscrivetevi e fatevi e ogni mese l'idea è di proporvi un contenuto in esclusiva quindi che potete trovare solo sulla newsletter o ripreso solo in parte all'interno del sito lo spallino.com che amorevolmente viene gestito ogni giorno da tutti noi bene caro Leo direi che siamo alle 22.59 possiamo anche dargli la sua come proprio quello che stiamo per fare il pezzo forte della serata c'è stato dalle 9 alle 9.35 circa lo dico perché vale la pena ricordare che questo appuntamento qua noi lo facciamo in diretta su Facebook ma può essere visto già da un minuto dopo la rediretta sempre sulla nostra pagina Facebook indifferita può essere visto su YouTube dove lo carichiamo e adesso l'ho già detto un'altra volta ma sto studiando Twitch datemi il tempo di capire come funziona quello strumento del diavolo e poi vedremo cosa fare anche lì cioè se fare la diretta lì magari puoi trasmetterla anche su Facebook o fare un altro tipo di diretta non lo so non rinunciamo mai a provare cose nuove anche quando non ne sappiamo niente quindi se però là fuori c'è qualcuno esperto di Twitch che vuole dirci come funziona ben venga mandateci una mail info allo spallino perfetto quindi Orla grazie ringrazio anche tutti un sacco di persone che ci hanno seguito di nuovo scusate se non abbiamo letto tutto ma dovevamo fare un sacco di domande a Francesco quindi avremo modo di fargliele eventualmente nel prossimo appuntamento possiamo tra altri 4 anni che l'idea era 2018 no ci tengo a ringraziare in diretta sia Gigi Telloli sia Michele Ronchi Stefanati che mi hanno scritto qua in privato apprezzo molto i loro messaggi buona serata di nuovo anche a Giannini che ti augura un buon proseguimento e non possiamo che farlo anche noi e alla prossima ciao a tutti ciao ciao ciao